l'incidente mortale sulla monte labattese ramadani guidava senza patente lotta a frodi ed evasioni 249 anni di guardia di finanza turismo a pesero grandi prospettive dopo la falsa partenza estiva agli archivi una mostra del cinema da grandi ospiti e grandi numeri festa del porto si rinnova la secolare tradizione una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di rossini news riparte una nuova settimana del telegiornale del canale 80 e purtroppo riparte con una notizia davvero terribile quella che ieri ha squarciato una tranquilla domenica pomeriggio con un incidente davvero sconcertante un incidente avvenuto nella monte labattese dove si sono spezzate due vite a seguito di un inseguimento dissennato inseguimento che è nato anche da alcune motivazioni emerse nella giornata odierna due morti tre feriti gravi uno scontro frontale a folle velocità all'interno di un'assurda domenica dilacerante dolore e sconcerto derivato dall'inesimo incidente mortale sulla strada montella batese sono circa le 16 30 di ieri domenica 20 giugno quando una pattuglia dei carabinieri proprio su questa strada montella batese decide di intimare l'alt ad una bmw che sta percorrendo la strada da pesaro in direzione urbino un alt motivato e circostanziato anche per una segnalazione di un'auto sospettata di furti che sembra corrispondere all'identikit della bmw in questione alla guida c'è il 27enne macedone sultan ramadani residente a sant'angelo in vado al suo fianco l'amico elvis cola di monte calvo in foglia i due sono entrambi già notti alle forze dell'ordine per guai con la giustizia e ramadani anziché fermarsi decide di schiacciare l'acceleratore e darsi alla fuga una fuga scriteriata che tocca il picco di 150 chilometri orari praticamente quasi il triplo del limite consentito su questa strada una fuga per lasciare indietro i carabinieri che di fatto decelerano quasi subito e capendo i rischi potenziali rischi che poi diventeranno una tremenda realtà di lì a poco perché l'inseguimento porta a perdere il controllo dell'auto in fase di sorpasso una bmw ingovernabile che si schianta contro una fiat 500 con tre ragazzi a bordo che procedeva in senso opposto un frontale senza scampo per martina mazza 32 anni di valle foglia giovane mamma di un bambino di 5 anni donna morta poco dopo l'impatto all'arrivo del 118 e dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere dell'auto accartocciata morta così come sultan ramadani conducente della bmw che ha causato l'incidente anche egli deceduto sul colpo la corsa a folle velocità della bmw di sultan ramadani si è interrotta in questo punto della monte labattese testimoniato dai rilievi a terra sull'impatto registrati dalle forze dell'ordine dai carabinieri intervenuti sul posto siamo davvero a poche decine di metri dall'inizio della rilevazione con autovelox che dovrebbe decelerare ulteriormente la velocità qui invece è avvenuto l'impatto sulla corsia opposta nella corsia opposta alla nostra è terminata la corsa della bmw alla mia destra invece qui dove c'è questo fossato ai limite della carreggiata in cui si può vedere anche questo cantiere di lavoro in corso è finita la corsa della fiat 500 con martina mazza a bordo una fiat 500 accartocciata in fiamme un accumulo di lamiere che hanno chiamato all'intervento i vigili del fuoco un luogo in cui come vedete ora c'è un mazzo di fiori a ricordare questa assurda tragedia per martina mazza 32 anni l'impatto è stato troppo violento non c'è stato nulla da fare a causa di una tragedia inaccettabile la giovane mamma lascia orfano un bambino di 5 anni che in quelle ore pensate per un'uscita sera alla pesaro era rimasto con i nonni a valle foglia alla guida della 500 c'era invece alessia mazza 28enne sorella di martina con le due ragazze in macchina anche l'amico kevin camcia entrambi sono stati soccosi e trasportati in codice rosso all'ospedale torrette in condizioni inizialmente gravi poi andate migliorando nella giornata odierna i due infatti risultano vigile cosciente seppure la prognosi resta riservata condizioni che invece restano molto gravi per l'albanese elvis cola passeggero della bmw al fianco di ramadani che a torrette è stato operato d'urgenza condizioni che vengono monitorate anche per comprendere ulteriori particolari di indagine che nel frattempo hanno rivelato dettagli sconcertanti sul perché ramadani potrebbe essersi dato alla fuga non risulta infatti che il macedone abbia mai realmente ottenuto la patente di guida e in tal senso era incappato in tre precedenti con annesse denunce due anni fa fu denunciato perché guidava con una patente macedone falsa ricevette un'altra denuncia simile nel 2022 e addirittura un'altra due mesi fa quando fu inseguito e bloccato dai carabinieri fra gradara e gabice per guida senza patente la bmw gli era stata sequestrata ma un mese fa era tornata nella disponibilità della madre intestataria del veicolo era stata infatti revocata la confisca del mezzo in attesa del processo fissato per novembre ieri però ramadani si è messo di nuovo alla guida della bmw e di nuovo si è trovato in un dissennato inseguimento l'ultimo altro incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica a fano quando una volkswagen golf con a bordo tre ragazzi marocchini stava percorrendo via cannelle in direzione flaminia quando sulla curva di ponte morello il conducente di 22 anni ha sfondato il parapetto facendo catapultare l'auto nel rio secco dopo un volo di diversi metri due dei ragazzi a bordo sono riusciti ad uscire dalla vettura mentre il terzo seduto sul sedile posteriore è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco tutti e tre sono stati portati all'ospedale torrette di ancona due in condizioni non preoccupanti mentre il 31enne seduto nei sedili posteriori ha riportato serie ferite alla spina dorsale più di 6.000 interventi ispettivi in un anno 88 evasori totali scoperti sono questi alcuni dei numeri emersi questa mattina in occasione del 249esimo anniversario della guardia di finanza celebrato anche dal comando pesarese 249 anni di guardia di finanza nella caserma intitolata al sottobrigadiere nicola ventura anche le fiamme gialle pesaresi hanno celebrato questa mattina l'anniversario del corpo di polizia da due secoli e mezzo a servizio della legalità autorità civili e rappresentanze delle altre forze di polizia si sono riunite questa mattina per applaudire gli incomi ai finanzieri distintesi per particolari meriti nell'anno di attività appena concluso e per riflettere sulla morfologia dei reati da contrastare sul territorio abbiamo fatto oltre 6.000 verifiche tributarie abbiamo denunciato moltissimi evasori tributari evasori totali abbiamo sequestrato più di 500.000 prodotti contraffatti o che in violazione all'ormativa sul made in italy o sulla sicurezza del lavoro grande operazioni grande lavoro per una polizia economico finanziaria specializzata come la guardia di finanza quali sono le problematicità che avete riscontrato in questo periodo sul nostro territorio e questo è un momento di particolare attenzione in italia perché il piano nazionale di ripresa e resilienza sono importantissime risorse che l'unione europea ha segnato l'italia dobbiamo stare attenti vigilare però in un'ottica propositiva in un'ottica di crescita e di aiuto tra le istituzioni perché queste queste risorse vengono utilizzate correttamente a vantaggio della nostra nazione lei è qui da circa un anno come si sta trovando? sì sono arrivato da sette mesi la ringrazio per questa domanda un contesto molto bello una provincia meravigliosa ho trovato del personale molto qualificato molto specializzato e la cooperazione con le altre istituzioni di polizia ma anche per la guardia di finanza agenzia delle entrate procura inps e anche ispettorato del lavoro sono molto ben organizzate sono molto positiva sono molto felice e noi di rossini tv siamo orgogliosi di dare notizia delle vostre azioni importanti sul territorio io credo che l'importanza come ho detto nel mio discorso dei rapporti con la stampa con gli organi di informazione sia fondamentale perché il vostro lavoro è strumentale strategico e fa parte di un sistema di fare squadra se voi non comunicate quello che noi facciamo il cittadino non ha conoscenza di quello che effettivamente si fa per loro e con i loro soldi grandi prospettive ma anche una falsa partenza estiva con cui convivere il turismo pesarese è stato oggetto nelle weekend di un approfondimento quello nato dal convegno promosso dai coordinamenti territoriali di fratelli d'italia che andiamo a rivedere in questo servizio di Antonio Astuti l'importante convegno organizzato presso l'hotel Excelsior Chia Pesaro progetto turismo tanti gli interventi e mancato quella dell'onorevole Daniele Santanchè che non è potuta essere ospite nella nostra città tutti presenti gli altri a partire dal presidente Acquaroli visti i risultati delle ultime stagioni i presupposti sono buoni è chiaro che dobbiamo continuare nella promozione implementare soprattutto la possibilità di portare turisti stranieri per il tramite dei servizi i voli aerei sono importanti vanno sicuramente anche essi implementati insieme alle corse anche ferroviarie poi c'è bisogno di riuscire ancora a destagionalizzare di più c'è un clima c'è che è positivo c'è sicuramente molto entusiasmo intorno al settore del turismo perché stiamo riscoprendo il turismo come anche strumento di crescita collettiva della nostra comunità di brandizzazione della nostra regione che sta riscoprendo un ruolo che non aveva mai avuto e questo sicuramente molto positivo questo convegno nasce praticamente da un lavoro fatto dal nostro partito e con la categoria diciamo con la filiera turismo abbiamo incontrato tutte le varie categorie che compongono questa filiera partendo dagli albergatori bagnini ristoratori marittimi e questo dovrebbe essere appunto una sintesi di tutto il lavoro fatto che è stato fatto anche in vista delle prossime amministrative perché vorremmo inserire nel programma un programma appunto dettagliato che scaturisce anche da quelle che sono le esigenze degli operatori del settore importante avere delle sinergie creare dei contatti nei territori affinché i vari operatori non non creino un clima di competizione ma di collaborazione e la promozione che deve fare la regione marche è fondamentale per tutti i territori per far sì che questi i risultati poi vengono accaduto sui territori pesaro è pronta per la capitale della cultura pesaro è una città bellissima che ha un potenziale enorme che non sono sicuramente io a dover spiegare oggi a voi ora bisogna mettere pesaro interno all'interno di un contesto marchigiano che essendo l'unica regione in italia che si crea a provare ha denotato negli anni sicuramente una complessità a ragionare in maniera aggregata e collettiva e questo è un limite perché poi andare ad aggredire i mercati circuiti internazionali soprattutto ma anche quelli nazionali da soli come piccole dimensioni e significa avere difficoltà anche proprio dimensionali l'auspicio ovviamente di tutti è che la stagione sia effettivamente sulla dirittura d'arrivo era partita bene perché avevamo avuto prima insomma i ponti primaverili erano andati discretamente bene c'erano molte prenotazioni molte richieste di informazione e poi è successo il finimondo insomma con l'alluvione il coinvolgimento anche della provincia di peso rubino nell'immagine deteriorata del della costa adriatica e quindi si era fermato tutto molte cancellazioni e soprattutto quelle che erano le aspettative degli albergatori che si immaginavano un il dopo al 2 giugno una settimana di fermo ma non un fermo così così lungo poi è arrivato insomma il bel tempo e adesso le cose sembra che vadano per il meglio anche nell'entroterra io anche urbino c'è un grande movimento di persone tante iniziative quindi finalmente speriamo che vada per il verso giusto è un peccato per chi come noi da anni lavora per la destagionalizzazione cioè per puntare ad un turismo 365 giorni all'anno ritrovarsi invece a dover confidare che almeno il mese di luglio di agosto vada bene è ripartita ieri la linea ferroviaria sub appenninica con più di 300 passeggeri saliti sul viaggio del treno storico ancona fabriano pergola una seconda inaugurazione alla presenza dei vertici della regione marche dopo quella precedente all'alluvione di settembre per riattivare così un'opportunità e un'attrazione turistica alla scoperta delle bellezze delle marche attraverso un mezzo di locomozione d'altri tempi domani 27 giugno la città di fano rende omaggio al vescovo uscente monsignor armando trasarti alle 21 nell'ex chiesa di san francesco il sindaco massimo seri concederà a trasarti la cittadinanza onoraria alla presenza dei rappresentanti istituzionali delle altre ex diocesi riunite di fossombrone cagli e pergola riparte a pesaro una nuova edizione di baby baia un'estate di sorrisi e magia a baia flaminia si tratta della tradizionale rassegna di eventi estivi del martedì caratterizzata da spettacoli e laboratori per bambini a ingresso gratuito che comincerà domani 27 giugno e si proterrà fino al primo agosto in piazza europa sempre ogni martedì a partire dalle 19 ad organizzare la iniziativa la nuova associazione dei commercianti di baia flaminia composta da oltre il 90 per cento degli operatori della zona che si sono uniti nella promozione di un evento che animerà baia flaminia con spettacoli ogni martedì dedicati ai più piccoli due premi oscar un monumento della commedia come carlo verdone è un'offerta cinematografica quanto mai trasversale si è chiusa così una 59esima mostra del cinema che ha davvero fatto il pieno di consensi una settimana di grande cinema accompagnata da una settimana di grande pubblico la 59esima mostra internazionale del cinema di pesaro si è conclusa sabato sera con la premiazione del concorso in cui la giuria internazionale ha assegnato la targa per il film vincitore a broken view del regista belga han severus traite premiato sul palco di piazza del popolo momento conclusivo coinciso con l'evento speciale dedicato al regista premio oscar giuseppe tornatore che ha messo il fiocco ad un'edizione che proietta il festival col vento in poppa verso la sessantesima edizione del 2024 è stata un'edizione direi straordinaria per la risposta anche del pubblico nel senso che il festival fortunatamente negli anni ha secondo me anche formato un pubblico che ci segue anche in maniera assidua però rispetto ad alcuni momenti alcuni eventi alcune proiezioni che abbiamo che abbiamo fatto la risposta è stata quasi in attesa e secondo me anche quest'idea che dopo dopo la pandemia l'anno scorso eravamo in una situazione di normalità ma appena di normalità in questo momento una piazza piena le persone sopra la fontana seduta intorno a palazzo ducale sotto gli archi e mi ha fatto ricordare appunto una piazza di tanti anni fa ma con ancora più pubblico è anche una scelta difficile perché abbiamo scelto di vivere in quel percorso sottile che c'è fra la separazione diciamo fra un cinema colto dotto di per studiosi diciamo così un cinema anche più popolare accogliente non volevamo rinunciare a nessuna delle due anime quella nostra più tradizionale quella verso cui guardiamo oggi e riteniamo di aver trovato un giusto un giusto equilibrio edizione da record per un festival da oscar da dante ferretti protagonista del giovedì del festival al regista giuseppe tornatore al quale è stato dedicato l'evento conclusivo ho sempre seguito questa mostra a distanza sin da ragazzo leggevo i resoconti giornalistici mi compravo i libri delle varie collane edite da marsilio per la mostra del cinema di pesaro e ho sempre seguito questa mostra consapevole che si trattasse di un festival particolare speciale molto colto e quindi ritrovarmi qui con questa bellissima iniziativa della quale sono grato al comitato scientifico al direttore artistico di dedicare la monografia al mio lavoro applausi per tornatore scroscianti quanto quelli per carlo verdone al quale 24 ore prima pesaro aveva dedicato un abbraccio ricolmo d'affetto sono tanti anni che inseguo carlo verdone perché dicevo mi viene a dire un amico ma è una parola grossa nel senso lo conosco da tanti anni e quest'inverno è stato molto gentile il padre di carlo verdone è stato un critico di cinema molto importante un professore primo professore storia del cinema è stato pubblicato un libro con i suoi scritti ripubblicato e carlo verdone col fratello luca mi hanno chiamato a presentare questo libro con loro e quindi quel momento lì a quel punto detto carlo però adesso quest'estate e lui mi ha detto ma non so perché mi danno un premio a pescara ed era in questi giorni ho detto ma è perfetto tu vieni a pesaro e poi prosegui non sapendo forse lui che diciamo tra roma e pesaro roma e pescara il pescara pesaro non è così vicino come roma pescara ecco quindi un po un po l'ho raggirato però poi è andato tutto bene dal grande cinema alla grande musica d'altri tempi quella degli anni 70 che anche in questo weekend di giugno ha fatto ballare gabice mare con la nona edizione del festival disco diva disco diva ormai è un evento imperdibile ideato e creato da cristina tassinari con l'intento di celebrare la disco music degli anni 70 e ovviamente con disco diva parte ufficialmente anche l'estate 2023 un festival davvero a cielo aperto che serve a celebrare grandi successi di un'epoca d'oro un'epoca del glamour l'epoca dove sono nate le discoteche in italia e dove sono nate proprio qui a gabice la mia creatura è nata 9 anni fa ovviamente da questa bellissima balconata respirando un'aria anni 70 continuamente ho detto ma qui non ci ha pensato nessuno di fare un festival ciudadano e questa intenzione è stata molto forte tant'è che ho coinvolto i libri di guadice e da partire da questa mia creatura io la chiamo perché così è stata ho avuto subito un grandissimo successo per voi arrivare ad oggi che siamo ad una non edizione e che devo dire abbiamo tanti riconoscimenti sia di pubblico che a livello mediatico abbiamo già visto ieri sera dedicata all'italo disco che è stato un successone incredibile con gazibo questa sera è la serata di punta come vedete dal mio look è la serata pienamente disco anni 70 e la celebreremo con ieri sera capote domani sera avremo dj ralph con un programma dedicato alla musga che appunto è la disco in questo caso quindi togliamo l'immagine da ralph in altri contesti poi daniele baldelli gino grasso e tanti altri ci siamo siamo contenti è una bellissima festa è cresciuta sempre di più ogni anno pensare che siamo già la non edizione mi fa pensare che è passato il tempo però è sono sempre molto felice molto contento anche dei risultati che stiamo ottenendo e questa è la dimostrazione che quando si lavora anche con un lavoro di squadra e successi si ottengono poi basta vedere il panorama la location che a vicemonte sono sono veramente felice è chiaro che dietro c'è un lavoro importante poi quando si arriva che inizia una serata allora sì ci si rilassa un po quindi buon disco diva a tutti e vi aspettiamo e un saluto a tutti gli amici di rossini tv vogliamo ricordare sindaco anche che una parte comunque del ricavato verrà devoluto alle famiglie colpite dalla luvione in emilia romagna sì abbiamo pensato quest'anno di aiutare i nostri amici emiliano romagnoli perché poi affollano anche le nostre spiagge quindi è un gesto di solidarietà un atto dovuto e siamo felici di poter magari alleviare il dolore a qualcuno con un piccolo contributo e vi ricordo che potrete ulteriormente approfondire questa nona edizione del festival disco diva di gabice mare all'interno dello speciale realizzato da rossini tv che trasmetteremo giovedì 29 giugno alle ore 20 parliamo sempre di eventi ma ora lo facciamo occupandoci di uno di quelli più tradizionali in assoluto per quello che riguarda la città di pesero anche uno dei più longevi parliamo della festa del porto che parte di fatto questa sera con una settimana di appuntamenti che culminerà con i fuochi d'artificio di domenica sera anche quest'anno torna una delle manifestazioni più caratteristiche di pesero la festa del porto 2023 fotografie in bianco e nero vecchi articoli di giornali poesie tutto sta a testimoniare che non è solo una festa di quartiere ma che racchiude al suo interno il senso di una grande comunità che vede le proprie radici ancorate al porto definite come particolare espressione della complessa anima della città una ricorrenza che vuole soprattutto ricordare quante persone marinai non persero la vita in mare è la festa che noi aspettiamo tutto l'anno in realtà noi anni fa facciamo un calendario che partiva dal primo di luglio cioè per noi il capodanno era la festa del porto e poi cominciava il primo mese era luglio secondo era agosto il terzo era settembre perciò faccio già capire così con queste poche parole cosa significa è tutto cioè noi lavoriamo praticamente da ottobre novembre dell'anno precedente per arrivarsi far sì che la festa che come tutti sanno è una festa parrocchiale ed è una festa che va avanti per merito dei volontari che si spendono e lasciano il loro tempo tolgono tempo alle famiglie tolgono tempo ai loro hobby per fare appunto questa questa festa che è meravigliosa sotto tutti gli aspetti la festa del porto tradizionalmente almeno da tantissimi anni che è la prima domenica di luglio o meglio la prima domenica di luglio si potrebbe dire si chiude la festa del porto con l'invito a tutta la popolazione a partecipare però la festa comincia praticamente da questa sera il lunedì con la con la processione perché vorrei ricordare che la festa del porto è una festa che nasce come festa religiosa i nostri marinai la ricordavano proprio come un ricordo dei caduti in mare quindi avremo la processione questa sera lunedì il martedì ci sarà la glupa quindi sono invitati tutti i porto questa diventa una una parte prettamente portolotta però possono partecipare chiaramente tutti poi ci sarà il dialetto anche quello viene sempre molto seguito che il dialetto pesarese che a me piace moltissimo io veramente mi onoro di avere anche recitato più volte in dialetto e vedo che c'è una partecipazione veramente massiva e poi ci sarà il lumachino d'oro e poi qui vorrei ricordare anche la manifestazione di musica classica che secondo me è una cosa da tenere ben presente a cui invito tutti a partecipare perché veramente ci sono delle prestazioni di altissimo di veramente di altissimo livello. Gente di mare che da anni lavora senza sosta per realizzare uno dei più grandi esempi di comunità e solidarietà volontari instancabili e legati da un unico obiettivo quello di creare qualcosa di grande per la città una storia che continua a gettare le reti per far sì che tutti continuino a stringere e rafforzare i rapporti tra le persone. Se vogliamo andare indietro nel tempo la tradizione della festa del porto risale al 1684 perché abbiamo una poesia che appunto parla della tradizionale festa del porto quindi era già una tradizione allora. Poi se dovessi dire che è sempre stata fatta questo qui sinceramente non lo so però diciamo che il primo richiamo è a quella data. E concludiamo con una notizia di sport perché è terminata ieri a Catania la bella cavalcata dei ranocchi Angels nel campionato di football americano e Angels che ieri in casa degli Elephants hanno perso la finale di South Air Conference che apriva le porte alla finalissima per la serie A2. Finalissima del 9ball a cui va a Catania dopo aver battuto una pesa roccoriaccia e provata dalla maxi trasferta con il punteggio finale di 37 a 12. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente per chi ci sta seguendo nella prima edizione delle 19.30. Subito dopo il Tg alle 20 vi presenteremo la nuova campagna di immatricolazione dell'Università degli Studi di Urbino in vista dell'anno accademico 2023-2024. E poi alle 21.20 l'appuntamento è con Green Tour. Vi stiamo infatti riproponendo in questa estate diversi nostri format di successo, successo assolutamente di prim'ordine, quello riscosso da Green Tour sui nostri schermi, Green Tour che ci porta alla scoperta delle bellezze del territorio. Questa sera rivivremo la puntata dedicata a Gradara alle 21.20 e poi le repliche giovedì alle 15.30 e domenica alle 12.00. E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Da parte mia di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.